Let's go bitches, siamo qui in sala di montaggio, bene, ieri è capitata una Nugler totalmente a caso, mi sembra in una delle prime partite con i subs, c'erano tutti che mi dicevano Giorgio fai la Nugler, Power, fai la Nugler, fallo, 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 e stavo giocando con i subscriber di Twitch, allora ho detto vai proviamoci, ed è uscita totalmente a caso, come vedrete nel video, nemmeno io mi accorgerò di averla fatta Più o meno ci metto 3 minuti a farla, giocando con l'M8 su Evac mi pare, e la cosa bella è che è molto veloce, cioè all'inizio faccio una streak bella alta, muoio, poi rimuoio subito dopo, poi comincio a fare una streak di tipo 28 kill nella metà tempo rimanente E poi le ultime 2 kill avvengono nel secondo side, quindi è molto veloce, molto bella da vedere, totalmente a caso, perché come sapete non sto più trattando Pub Stomping, se volete che continui a fare Pub Stomping, beh fatemelo sapere qui sotto Io vi saluto Batches, vi lascio a questo bellissimo gameplay molto divertente, comunque molto carino da vedere con un sottofondo musicale, let's go Batches Io non capisco che problema c'ho, cioè mi sento come se quando gioco, sono sicuro che la persona che ho davanti mi vede prima Io c'è vivo questa cosa Aspetta, quello che vedi tu non è quello che vede l'avversario Sì sì ma questo lo so benissimo, ma mi pare esagerato che io ogni volta vido la gente per secondo, cioè devo stare per forza Ah me l'ho sbagliato Bravo Magari paranaglio tu Aspetta, copri un video, copri un video Ah, è una persona davvero? Mi c'ho una compagna così Gio, ce ne ho uno ancora qui sotto eh Ah, è una stabile Due, 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 due Ok, 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 giuro, occhio Orco, due, via Donna, ti ho salvato Oddio, questo l'ho pisciato Interessante mi avranno qua su lì No, ragazzi, sono in due su C a campionare Dai, oh, ste cose, ste cose, non esistono Eh, ma questa è una buccia cazzo di vera Oh, Gio Eh, muori da tutti, merda Gua, due raffiche, due, due, cazzo di raffiche Ma io li devo tirare a un caricatore Mi sta facendo malissimo la guancia, guarda Guarda Ragazzi, se catturiamo mai io vi dirò l'altra Eh, catturiamo mai tanto Non abbiamo nella bandiera principale Eh, non passo due, siamo molto No, io no No, uno mid Ragazzi, non so più che div Cioè, io pare che sparo per secondo No, sto one shot, che miro del merda Uno mid Due Uno muore Vai via laser Eh, porco di favore No, non ci voglio credere Non ci... Chi mi cazzo Chi non l'altra è muoio Perché sta ricaricando Ah, questo è caduto Il dart Meno male, l'ha schiantato sul muro Un'altra è una Oh, una fa' a war on batting Un regretto all'occhio È una war on Uno da jump Uno da jump Uno da jump Mido Ah, che giudizio Una, una, uno mid Tutto la nostra Demolitrice uccisa Basta la gare no capito che ne è 8 dov'era questo qui nei si aiuto gli ho dato 3 raffiche 3 eh non sto scherzando no no dietro di te oh merda come cazzo sto regà io non so come sto sopravvivendo no 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 dai eh quella è una testa di cazzo no no top preso 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 man no me ne devo andare di corsa fai di ah ciao fammi andare arrivando esercito ora arrivando esercito uno l'ho preso è un altro che avevo una shot sta micchia mi distruggono delle volte ma a volte muori come se muori tipo eccolo eccolo oddio l'ho ammazzata mamma mia che cazzo ho fatto ma c'è là mo uno in uno con l'SMGS col Vespero oltretutto no una casa mi ha sparato troppo prima lui con l'intrazione prima ho sparato ma guarda qua mi spieghi come è possibile 3 raffiche ma come mi sto mi sto scendo il sangue dentro la bocca andiamo subito in B che cazzo vedevo Dio sta con sto gioco c'ha laser però porco due non rallentare te odio non me lo fa morire no ma ti ha eliminato no ma ti ha eliminato ah è andato uno di fronte due raffiche no madonna l'ho storto no ma ti ha ucciso ho glicciato malissimo stava uno l'ho preso no 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 c'è uno c'è uno è glicciadissimo ti giuro mi fa paura c'ho no giro 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 un'altra 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 tre 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 giuro ah merda salta salta qua sinistra vieni vai bella un'altra in fondo bello come l'hai preso un'altra 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 ce ne stanno due un colpo un colpo no vabbè ho fatto la nuclear come ho fatto la nuclear ma come ho fatto la nuclear ma non me ne sono accorto io ma io non me ne sono accorto di aver fatto la nuclear davvero ho fatto la nuclear ce li ho tutti qua stanno tutti urlando nuclear ragazzi ce li ho tutti qua questa non è che sta un altro là no guarda che può essere perché stavi no no mi stanno dicendo che ne ho fatte 28 vaffanculo mi ha acceso uno con un colpo in testa no vaffanculo 2 kill dopo l'inizio del round sveglione come l'ho fatto allora l'ho fatto ah grande regà non me ne sono mai accorto la mia azione da bodyguard mangia colpi è andata buona vacca troia oh ho tirato 3 raffiche a 1 ho tirato 3 raffiche a 1 regà vi giuro ho mandato a puttani lo scorro per una buona cazzo ora è morta comunque manco vabbè secondo me è una merda ho fatto un nuclear proprio di merda voi che dite a lento come nucleo è abbastanza veloce sono in 3 sui ok uno è andato top l'ho visto ma lo prendo se riesco preso ho preso un altro foto e io metterò un po' il cazzo per amore giocava che coglioni ho tagliato il cazzo mio non riesca a fare mezza chile ma la gente oh dammi il cecchino cazzo la pubblica me la un nervoso devo tanto c'è scassa ma questo non muore c'è un attack ah ho fatto tipo 40 gunstreak davvero no pensa se c'avevo l'hater quanti cazzo ne avrei tirati di hater ora e avrebbero quittato tutti non avresti fatto nulla no che poi dall'altro l'ho fatto senza che voi l'abbiate tirato eh che son morto poi malissimo mi ricordo mi ricordo che in una kill ti ho salvato amorosamente il culo quindi posso andarmi fiero di questo guarda 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 bang guarda questo questo è lo stupro che mi piace guarda ah è rallentatissima qua la visuale la visuale è rallentatissima e l'ho fatta schizzare verso l'alto oh god o merda io 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 vi saluto io 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 ok io mino 23 difese tutte sobravi 21 e 17 con calma ma io insieme a te vabbè sto contento ma è uscita buffo proprio cioè io stavo io la gente scriveva no 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 secondo me mi stanno trollando in streaming no ma secondo me secondo me mi stanno trollando guarda ma ci rimane del merda vieni vieni bob da Grazie a tutti